Gente buona, gente buona che ti aiuta a scrivere un libro Sì, sì, sì Nella mia messaggistica Gmail Ogni tanto arriva qualche notizia di bontà Mi è ora pervenuta su Gmail Una notizia da parte di Dedalo Servizi Editoriali Io questa notizia che mi perviene dalla casa editrice Dedalo Servizi Editoriali Ve la metto come linea riassunto di questo video E questo video è intitolato Gente buona che ti aiuta a scrivere un libro Ecco, qua c'è scritto Hai scritto un libro e vuoi migliorarlo? Affidati a noi Renderemo il tuo libro perfetto Maduro, appetibile Affidati a noi Pensate quanta bontà che c'è a questo mondo Poi Non siamo una casa editrice Siamo molto meglio Molto meglio Poi i nostri servizi Correzione bozze Editing testi Valutazione editoriale Impaginazione Copertina Materiale pubblicitario Ghost writing Pubblicità su Amazon Cosa ti offriamo? Ti offriamo esperienza Professionalità E sincerità Pensate voi pure alla sincerità Ti offrono Perché affidarti a noi? Promettiamo alta qualità Affiniamo stile Forma e talento Risolviamo problemi E poi ci sono le foto di quelli che operano dentro questa agenzia Dedalo Le foto Tutte belle foto Ma che belle Contattaci Ci vorrà solo un minuto Poi alcuni autori per i quali abbiamo lavorato Pensate un po' voi Poi cosa dice chi ci ha scelto? E poi ecco la squadra di Dedalo Domenico Russo Editor Beatrice Spada Visual E graphic designer David Fivoli Editor e scrittore Francesca Cantando Editor e copyright Francesco Bellomia Giorgia Ragoni Redattrice Marcello Nucciarelli Editor e scrittore Ilaria Ferramosca Valutatrice Capito? E' valutatrice E' scrittrice Pietro Chiarelli Correttore di bozze Pensate che staff che c'è a nostra disposizione Ha scritto un libro e non sai da dove cominciare per pubblicarlo Affidati a noi Pensate quanta bontà che c'è a questo romo E-mail Whatsapp Privacy Cookie eccetera Ma pensate voi Che ricchezza informativa che c'è Che ricchezza Hai scritto un libro e vuoi migliorarlo Affidati a noi Renderemo il tuo libro perfetto Qua Le informazioni ci sono tutti cari amici Ci sono tutte le informazioni Si tratta solo di sapere Se quest'oro La loro bontà te la offrono gratis O vogliono qualcosa in cambio Capito? Io so soltanto una cosa cari amici So soltanto una cosa Che sono questo signore qua Ho quasi 83 anni 83 anni Ho scritto tantissimo tantissimo Ho scritto in vita mia Senza avere mai Agganci Agganci editoriali Senza aver mai partecipato Ai salotti letterari Cari amici Senza aver mai partecipato Ai salotti letterari Mai 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 Eppure Eppure sono andato avanti Con le mie sole forze Con le mie sole forze E dopo aver scritto Tante tante opere Cari amici Tante tante opere Tante opere Ora in libreria Appare In tutte le librerie italiane Appare questo romanzo storico La cometa dell'imperatore Vedete Serafino Massoni La cometa dell'imperatore Qua c'è l'immagine dell'imperatore Federico II di Svevia Svevia No Svezia Svevia Svevia Ecco qua L'ottima casa editrice Che ha pubblicato Questa mia opera Vedete Edizioni Efesto Efesto Che si avvale Delle messaggerie Libri Per cui quest'opera La trovate in tutte le librerie italiane E ho fatto tutto da solo Capito Tutto da solo Tutto da solo Ma perché Ma perché Dedalo Dedalo Perché Dedalo Servizi editoriali Non ci dici Se le tue prestazioni Le offri gratis Gratis O vuoi O vuoi qualcosa in cambio O vuoi qualcosa in cambio Faccelo sapere Dedalo Cara Dedalo Va bene Dedalo Io invece ho dovuto fare Tutto da solo Ho capito Dedalo Tutto da solo Ho dovuto fare Va bene cari amici Fatemi sapere Cosa pensate voi Di questa situazione Capito Fatemelo sapere E magari Fatemi sapere Anche Se devo darvi Ulteriori informazioni Va bene Io ve le darò Tanto volentieri A tutti voi Cari amici Anche all'agenzia Dedalo Tanti cari saluti Dalla Dalla comita Dell'imperatore Tanti cari saluti Tanti cari saluti Tanti cari saluti